benvenuti al parco archeologico palmintelli di caltanissetta per una serata speciale per una persona speciale in una cornice assolutamente straordinaria l'apertura è demandata al deus ex macchina di questa serata un applauso innanzitutto per il nostro capitano davide la paglia e poi per il cuore del movimento logistico organizzativo ottavio bruno buonasera buonasera a tutti quanti è davvero una parola che poco fa mi hanno detto di non dire e io la dico per prima la parola è grazie di solito i ringraziamenti si fanno alla fine di un incontro di uno spettacolo di una ricorrenza questa questa volta io li voglio fare all'inizio perché vedere tutti questi amici tutte queste persone che sono venute da mezza sicilia avremmo avuto fabio casadei da roma ma lo avremo in video perché non è potuto non ha potuto prendere l'aereo e è davvero emozionante e da una meravigliosa immagine di quella che di quello che è il cuore di calta nissetta credetemi io finisco subito perché poi donatello darà spazio agli artisti che ci intratterranno e alle letture che farà giorgio villa credetemi nell'ultimo anno all'avere affinato conosco davide la paglia da 60 anni quando giocava all'oratorio salesiano ma avere affinato un'amicizia con un uomo di così grande valore mi ha accresciuto e mi ha riportato di nuovo qua perché è l'ultima cosa che faccio e in questa cosa ho portato a calta nissetta la calta nissetta romantica di ottavio bruno quando passeggiava lo dico fra virgolette dottore tona chataranne collegio e avevamo i nostri idoli che erano pulibirenti di marco trincali emilio re li vedevamo come grandi grandi calciatori il calcio era un'altra cosa il calcio si è fermato forse con davide la paglia ma davide la paglia stasera rilancerà un calcio nuovo che speriamo sia poriero e bello per tutta la sicilia e soprattutto per la nostra calta nissetta e allora buona serata e grazie grazie di nuovo buonasera 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 grazie a ottavio conoscendo ottavio che con le parole solitamente parla quei 26 27 minuti ha fatto un sacrificio enorme ringraziamolo con un applauso anche perché questa oltre a essere una serata speciale dedicata al nostro capitano è una serata in cui si parlerà di un libro si parlerà di emozioni si tratteggeranno tra virgolette paesaggi di un calcio che non voglio dire che non c'è più che era diverso perché apparteneva a un'altra epoca però iniziamo con un sorriso io dal colorito si vede sono impegnato nella stagione turistica avevo chiesto ottavio fammi una cortesia siccome arriverò tardi mi fai la scaletta in word me la stampi si l'ha scritta a mano no no l'ha scritta veramente a mano poi sono andato dietro e ho detto ma ne hai fatta una sola no dice ne ho fatte quattro le hai fotocopiate no le ha scritte tutte quattro a mano quindi se nel corso della serata io qualcosa non la dovessi leggere o capire non è perché sono ignorante ma perché proprio non so leggere grazie allora per strappare un sorriso ma dopo i doverosi sorrisi i ringraziamenti non li facciamo anche perché qua l'unico grazie lo diremo alla fine a quest'uomo che è seduto qui col quale tanti anni fa ho avuto anch'io la fortuna di calcare i campi da gioco ero alto biondo e si vede che non è andata benissimo iniziamo con il coro di apasong che ci regala un'esibizione e una musica straordinariamente toccante applauso grazie 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 no 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 Oh, I'm all charity Just as long as you stand Stand by me So darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, darling, stand by me Oh, stand by me If the sky that we'll look upon Should crumble and fall And the mountain should crumble to the sea I won't cry, I won't cry No, I won't shed a tear Just as long as you stand Stand by me So darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by me Whenever you're in trouble Won't you stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by me Stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by me Grazie a tutti. applauso applauso facciamo un applauso per questa straordinaria esibizione volevo anche spendere una parola per ottavio perché devo dire che la terza età è un brutto momento era salito perché doveva parlare di una sola cosa del libro ha parlato di tutto tranne che del libro facciamoci un applauso applauso vieni qua aspetta ti devo dare il microfono funziona così altrimenti le persone non ti sentono aspetta e se ci sono medici cortesemente girano dietro il palco che abbiamo bisogno allora il libro allora il libro è il capitano coraggioso una vita da capitano coraggioso come nasce nasce dalla volontà di davide che bontà sua mi ha pregato di coordinargli un po la sua biografia assieme a tanti pensieri di tanti amici suoi compagni di squadra sui allenatori e sui estimatori e al contempo dare un'immagine di quella caltanissetta che ha visto nascere davide la paglia lui ai natali nel 65 quindi erano gli anni più belli gli anni di questi nostri campioni che ho elencato poco fa e non dico più re pulvirenti di marco tringali cipollone non dobbiamo dimenticare il cannoniere della storia ernesto cipollone che sono stati i precursori di davide ecco tutti questi sono nel libro assieme a una bella caltanissetta regina del terziario di una zona del centro sicilia che ambisce a risvegliarsi sperando di trovare di nuovo un'altra un altro momento come quello che abbiamo vissuto noi nella nostra fanciullezza e davide ha una grande dote io nella targa che gli diedi l'anno scorso al suo day scrissi con riconoscenza e ammirazione ma osservavo questo mio fratello più piccolo e lo osservavo con il suo con la sua spudoratezza il suo coraggio di mostrarsi e di dire ragazzi se io così riesco a riempire uno stadio se io così riesco a riempire una platea siate positivi e non mollate mai questo è il motto che trovate nel libro il capitano coraggioso di davide la paglia ottavio bruno non c'entra niente perdonami se qualcuno aspetta aspetta vieni dove vai dove vai dietro le quinte non dategli da bere che poi mi si riduce a così allora se qualcuno volesse acquistare il libro dove lo trova come può fare come no per questa sera nei nel gazebo che abbiamo organizzato il costo è minimo perché c'è costata tanta tanta fatica abbiamo avuto dei professionisti che ci hanno collaborato il professore ganci che ha corretto la biografia e tutte le scempiaggini che avevo scritto io abbiamo avuto maria dell'utri che ce lo ha impaginato e 15 euro credetemi è un piccolo contributo che vi chiediamo per coprire le spese di di questa stampa ne vale la pena vederla e poi ci sono tanti di quei pacchetti ho imparato che quanto ci sono tre quattro foto si c'è pacchetto non si c'è album donatello lo sapevi adesso lo sai visto come sono bravo tanti pacchetti della storia di davide fin da quanto era sul cavallino a dondolo e il buon lillo suo papà lo lo cresceva con tanto amore assieme a una donna che vi prego applaudire che suo figlio ha ribattezzato la leonessa che è la mamma di davide la paglia taccio di altre tre donne meravigliose ok puoi tornare lì doveri a dormire poi ti chiamerò più tardi proseguiamo con dei momenti che sono particolari prima c'è stato il sonoro adesso ci sarà il visivo in che senso un balletto bellissimo ma di tutto quello che rappresenta e vuole descrivere ne parleremo dopo grazie scherzi io senti agesse sono soldi l'anno 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 e quichiamo T'opprite la blesse Où tes pieds passent Cachent dans le trou D'entendiment Et quand tu es Abandonniste Amasse-moi Quand tu voudras Amasse-moi Quand tu voudras Amasse-moi Quand tu voudras Amasse-moi All human beings are born free and equal, in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience, and should act towards one another in a spirit of community. I'm laughing while you're running, but you won't see me when I'm coming. I'll be the monster you've been wanting. Oh, Lord. Oh, my grave. 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 I'll be the monster you've been wanting. Oh, my grave. Oh, my grave. Oh, my grave. Oh, my grave. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e coscienza e dovrebbero agire gli uni verso gli altri in uno spirito di comunità. bravissimi 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 la danza un sociologo di sé è pittura del corpo perché nasconde colori ed emozioni che talvolta non si riescono a decifrare ovviamente io non ci riesco ma chiamo accanto a me un'icona del ballonisteno un insegnante una maestra un'appassionata alba bifarelle applauso che avrà la possibilità di raccontarci cosa c'è dietro questo disegno magico e fluttuante grazie donatello buonasera a tutti intanto volevo ringraziare ottavio e davide per avermi invitata insieme ai ragazzi a questa serata speciale grazie ragazzi per essere con me questa serata quando mi ha chiamato ottavio mi ha detto alba è un inno alla vita quello che faccio nel mio lavoro lo faccio sempre con entusiasmo emozione proprio perché viene dal mio cuore quindi si sposava perfettamente con quello che la la mia filosofia la coreografia per me appunto un inno alla vita parte con una musica francese molto delicata sul sull'amore per poi esplodere con una parte un po più appunto frenetica alla fine abbiamo anche la voce di aldo rapè che ripete il testo citato prima in inglese della stessa traccia dove appunto dice tutti gli esseri umani sono uguali hanno gli stessi diritti ecco un po riflettevo dicevo ragazzi ma secondo voi il significato della della coreografia qual è in realtà siamo qui per una serata dedicata a davide parliamo molti di voi ovviamente fanno parte del mondo del calcio noi facciamo parte del mondo della danza però credo che ci accomuna ci accomunano tante cose innanzitutto essere cresciuti con delle regole di vita che ci portiamo avanti sempre in tutte le occasioni che ci capitano con dei valori che dobbiamo trasmettere e davide ne sei proprio l'esempio la forza che continui a trasmettere il coraggio ed è quello che anch'io cerco sempre di trasmettere ai miei ragazzi di andare avanti nonostante qualsiasi difficoltà qualsiasi problema sei veramente un grande esempio ti ringraziamo siamo qua per te stasera perché davvero ci tenevamo ad essere presenti e portare anche un po del nostro coraggio accanto a te grazie mille grazie donatello grazie a te grazie a questi splendidi ragazzi e ragazze oggi anche se oggi il fluid quindi che va grazie grazie un applauso se tra il pubblico c'è qualcuno che conosce ottavio bruno chiamatelo perché sennò sarà tutto il tempo qui a te che stai facendo allora tutti in coro al mio via fate un applauso che forse capisce che se non ha il microfono non si sente via e allora ti allora visto che hai tanta voglia di parlare lascio il microfono a te io vado via avanti adesso giorgio villa che è un lettore che entra davvero nell'animo e nei cuori leggerà un brano del libro che rinnovo per il quale rinnovo l'invito ad acquistarlo la slà che ha colpito davide non lo ha abbattuto gli ha dato forza volontà e tanto tanto amore ascoltiamo questa lettura di giorgio e ne capiremo davvero l'essenza in una fase dei vari accertamenti dati sintomi cominciai a pensare alla mia famiglia a mia madre a mio fratello e ai miei nipoti e preso dalla disperazione una volta uscito dall'ospedale ebbi un attimo di debolezza e pensai una brutta soluzione ma si trattò di un momento entrai in una chiesa e mi inizi a pregare e mi convinci che non potevo abbandonare la mia famiglia che dovevo lottare come avevo fatto tante volte nella mia vita giunto a casa daniela mi comporta nella decisione di sottoporme una cura sperimentale e intanto cominciamo a cercare una nuova casa senza scale da fare dopo un po di tempo risalgo a milano accompagnato da daniela per ricevere i farmaci che dovevo assunti e quindi mi incontro con la dottoressa e mi spiega le modalità di assunzione dei medicinali e vedo anche il dottore melazzini per ben due anni ho fatto la spola con milano sempre con a fianco daniela per essere sottoposta ad accertamenti sull'andamento della malattia che si è rivelata per mia fortuna caratterizzata da un certo grado di lentezza ma soprattutto di natura sporadica le mie figlie non correvano il rischio di essere colpite così per via genetica allo scopo di non allontanare di continuo daniela dalle bambine che faceva accompagnare a milano da mio fratello o da altri come alessandro cortese e massimo ferraro carissimi amici è sempre difficile poi riprendere la parola dopo giorgio villa il maestro che ha un timpro e poi in questa occasione racconta quelli che sono spaccati di vita ciò che realmente è accaduto una serata piena di amici di conoscenti di persone del calcio veramente trasversale della città della politica poi parleremo anche del perché dei riconoscimenti ma ci sono delle persone che per vari motivi non sono potute essere qui con noi ne cito tre che avevano lavorato anche per partecipare non sono potute venire ma adesso vedremo il loro saluto e sono peraltro tre personaggi straordinariamente conosciuti un grande campione di atletica toto andibbo uno dei giornalisti siciliani più conosciuti roberto quelli e poi una gloria della nissa fabio casadei vediamo i loro saluti buonasera innanzitutto volevo salutare tutte le persone che questa sera si trovano al teatro ma soprattutto volevo mandare un grandissimo abbraccio a davide la paglia e a tutta la sua famiglia io vorrei dire una cosa che noi abbiamo qualcosa in comune perché nel 1991 quando io ero il grande favorito dei mondiali di Tokyo per una bruttissima malattia epileptica ho perso nonostante che sono arrivato ultimo nonostante che mi hanno detto che avevo una malattia che non potevo più cose non mi sono mai avvenso a davide nonostante i problemi che hai non ti devi mai avvenire perché lo sport fa bene alla salute ma soprattutto fa bene a te sei una persona straordinaria e spero che un giorno abbiamo la possibilità di incontrarci un grande abbraccio veramente il cuore ciao a tutti e bentrovati intanto mi scuso per non essere presente per questa bellissima iniziativa mi dolgo tanto però purtroppo impegni familiari ed istituzionali con il presidente dell'ordine mi portano altrove ma sono lì con il cuore con la passione con la voglia di ringraziarvi e di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa serata a questa splendida pubblicazione una pubblicazione che letta fa riflettere fa riflettere molto incoraggia lo sport ma incoraggia anche il cuore a continuare a pulsare perché la storia una storia bellissima una storia che fa venire i prividi come tante altre storie del nostro mondo del mondo dello sport perché è vero vi faccio il vice direttore nazionale dei tg della rai e tg regionali presidente dell'ordine ma nasco e cresco e continuo ad essere un giornalista sportivo lo sport è vita lo sport è grinta e voglia di lealtà di fair play ma anche voglia di far bene e far bene vuol dire anche scrivere raccontare commuoversi emozionarsi per gli iscritti che sono stati pubblicati le storie le storie sono belle sin da ragazzo io ho sempre apprezzato i giornalisti che raccontavano le storie perché è vero c'è la cronaca c'è l'immediatezza della notizia ma c'è anche la cronaca sì ma ci sono anche le storie le storie sono belle le storie con la s maiuscola e quindi storie cuore voglia di riflettere voglia di emozionarsi anche di piangere un po perché a volte ci vuole anche questo siamo esseri umani e dobbiamo continuarlo ad essere lo sport è vita lo sport è passione lo sport deve essere un volano anche per i giovani della scuola ecco perché in questi momenti drammatici anche di cronaca la scuola deve essere un appiglio deve essere un porto sicuro per per i giovani e anche per le famiglie allora grazie grazie per questa serata ci sono con il cuore ci sono con questo video ma sono convinto che tutto va benissimo tutto andrà bene ma soprattutto ci rivedremo presto grazie per avermi voluto invitare sono felice di essere partecipe di questa grande serata ciao a tutti e grazie buonasera ottavio grazie per avermi rintracciato e per avermi dato la possibilità questa sera di poter salutare tanti vecchi amici tante persone con le quali ho passato dei momenti bellissimi e grazie e vi auguro che la serata sia molto 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 interessante come immagino che sia e volevo soltanto darvi un saluto sono molto emozionato perché mi ricordo in questo momento tante tante belle cose passate al palmitelli e con tutti i ragazzi del gruppo della nissa e volevo dire anche che lo sport aiuta molto nel poter affrontare anche cose molto gravi come quella che è capitata a me come sta capitando a davide e lo sport tempra lo sport ti dà fiducia ti dà autostima e quindi questo fa sì che la vita successiva quella sportiva che dura come sappiamo purtroppo soltanto fino a una certa età da poi la possibilità per vivere in una maniera più serena tutto ciò che avviene tutto ciò che avviene comprese le cose non belle quindi soltanto per dirvi questo che la famiglia gli amori sono quelli che danno insieme allo sport la possibilità di avere una vita serena una vita tranquilla anche in situazioni che apparrebbero veramente difficili non voglio dediarvi di più con queste parole voglio che la serata sia una serata brillante allegra che i ricordi belli passino sopra quelli brutti vi saluto tutti vi abbraccio fortemente non so spero un giorno di poterci rincontrare saluto speciale a maurizio mazza mio caro amico col quale ci sentiamo periodicamente è un abbraccio forte a davide e spero che questa serata e il suo libro possano dare un pochino di soddisfazione a lui e a tutti coloro i quali mi sono vicini un abbraccio fortissimo a tutti grazie grazie e con toto antipo e roberto quelli abbiamo parlato per fabio casadesta ottavio bruno che onestamente è più attivo di quelli di chi l'ha visto rintraccia tutti un quasi uno stalker lo sarei definire e sia toto antipo dicevo che roberto quelli nel leggere il libro ci siamo confrontati hanno descritto due stati d'animo diversi di uno sportivo che comunque vive dei problematici all'apice della carriera che lo costringono a rinunciare un sogno roberto che è un grandissimo giornalista di come talvolta ci siano degli spaccati di vita vissuta che interessino un territorio che raccontano aprono delle finestre su queste finestre si guardano storie particolari questa sera ancora non ho usato un termine lo voglio usare storie d'amore perché questa sera c'è tanto amore c'è l'amore dell'amicizia c'è l'amore per lo sport l'amore per l'arte l'amore per il ballo l'amore per il canto talvolta amore è abusato come termine però in una serata in cui si sente l'amore bisogna dirlo poi ci sono le interazioni che intercorrono fra lo sportivo e la vita di tutti i giorni il famoso tessuto sociale perché sono delle cose che camminano parimenti insieme e a questo punto abbiamo il piacere di tre interventi sarò io ad invitarli sul palco che ci racconteranno tre segmenti diversi il primo è il magistrato di caltanizzetta giovan battista tona un applauso grazie perché poi lo sport si riversa illumina o comunque serve anche per la società e sulla società getta una luce e ne parliamo con uno dei protagonisti della nostra città anche se su un territorio diverso buonasera innanzitutto e benvenuto buonasera grazie io mi limiterò a ricordare una una data una data che per me è importante ma penso sia anche importante per la nissa il 24 gennaio del 2010 tutti aspettavano una partita che si doveva a disputare al meazza era inter milan tutto esaurito giornale e televisioni con le antenne accese fu una partita molto emozionante finì con l'inter che vinse 2 a 0 mi pare che furono pandef milito a segnare la cosa che fece notizia fu che ronaldinho il calciatore acquistato dal milan sbagliò un rigore che giulio cesar parò riuscì a parare questa era la notizia più importante del 24 gennaio 2010 quel giorno a rosarno la nissa giocava fuori casa era non ricordo male era un anno un po particolare la nissa fece un pareggio che però era importante per per i punteggi di quell'anno il giorno dopo tutti i giornali parlavano di inter milan e di nissa rosarno perché la nissa dopo avere conseguito questo risultato fece un comunicato stampa in cui ricordava quello che era successo alcune settimane prima qui a calta nissetta un'indagine aveva svelato aveva bloccato dei progetti che erano maturati all'interno di alcuni gruppi mafiosi che avevano preso come obiettivi anche alcuni magistrati io me lo ricordo per motivi personali e ci fu una grande espressione di solidarietà a livello locale e la nissa fece un comunicato stampa in cui dedicava questo risultato a tutti coloro che legati come i giocatori della nissa al loro territorio si adoperavano per fare rispettare la legge all'interno di questo territorio furono queste due le notizie dei giornali sportivi quel giorno dopo due anni uscì un un libro con una prefazione di damiano tommasi che nel frattempo aveva preso il premio etica per lo sport era un libro di un giornalista per paolo romani e si intitolava calcio criminale e quindi raccontava tutte le vicende poco edificanti del calcio poi c'era un capitolo invece sulle belle storie di calcio e in questo capitolo un paragrafo era dedicato alla nissa io voglio ricordarla questa cosa perché siamo siamo capaci di guardare spesso nel presente alle cose che non vanno a quello che non si può risolvere eccetera eccetera mentre invece ci sono anche delle pagine belle anche nella storia di una piccola squadra che sembra poi magari non molto importante dinanzi a questi giganti e siccome oggi parliamo siamo qui convenuti per rendere omaggio ad una persona che ha un grandissimo valore per questa per questa città non solo per quello che ha fatto nello sport ma anche perché con il fatto stesso di esserci e di essere qui e ci ricorda che non c'è niente dinanzi al quale non valga la pena fare qualcosa ed è il grande continuo costante insegnamento che che ci dà il capitano la paglia che al quale dobbiamo tributare un ringraziamento perché tutte le volte che ci scoraggiamo ognuno di noi nella nostra giornata penso che gli capiti anche più di una volta sa che può pensare che da qualche parte non molto lontano da lui in questo territorio c'è il capitano la paglia e allora forse scoraggiarsi non è il caso grazie 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 per il messaggio finale e grazie per lo spaccato non dovrei dirlo perché il libro è quello di davide però compriamo anche calcio criminale a questo punto sono curioso di andarlo a leggere grazie al tona e proseguiamo ed è vero che gli esempi sono quelli che illuminano in una società come la nostra dove purtroppo come diceva anche roberto quelli di esempi negativi ce ne sono tanti quelli positivi splendono e si notano ancora di più e passiamo adesso al mondo del calcio e parliamo con un dirigente che è una figura iconica del calcio siciliano credo che se qualcuno non lo dovesse conoscere sarebbe qualcuno che è abitato in papuasia in tasmania perché chiamo qui pietro lomonaco un applauso grazie stasera ci è venuti a trovare per questa occasione particolare veramente un uomo come si suol dire pieno di calcio sotto tutti i profili che ha fatto la storia sportiva di molte squadre siciliane che ha scritto capitoli importanti quindi in una serata dedicata al calcio un'icona del calcio non poteva mancare grazie e benvenuto buonasera a tutti buonasera a tutti difficilmente io presenzio a eventi del genere però quando mi è arrivato l'invito per rendere omaggio a davide l'ho accettato subito e con grandissimo piacere devo dire che arrivato qua rivedere tanta tanta gente tante persone che hanno caratterizzato il mio essere calciatore di una volta il mio essere allenatore di una volta mi ha reso veramente felice però la cosa più importante più educativa più forte è stata quella di vedere davide e di vederlo in faccia sereno poco fa diceva il magistrato l'esempio che tu dai di forza di coraggio e del fare caro davide ti devo dire che viviamo in una società dove al 90 per cento si appare e al 10 per cento si è e tu sei sei con i comportamenti lo eri da ragazzo lo eri da calciatore mai una polemica io mi ricordo mai una discussione sempre a dare l'esempio nei comportamenti e nel modo di essere e l'hai portato dietro di te queste caratteristiche anche nella nella malattia sei stato veramente encomiabile veramente un esempio da seguire così come lo è stata la tua famiglia che ti è stato vicino e io sono convinto che questo esempio il libro ne è assolutamente una testimonianza da tenere presente io sono convinto che questo esempio tu lo portarei ancora per tanto tempo e chi vuole vedere le cose vere e deve avvicinarsi a gente come te caro davide quindi io posso dirti bravo posso dirti sei stato veramente fantastico fino a ora e sei qualche cosa da tenere sempre presente per ognuno di noi nella nostra vita grazie davide grazie 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 non so se c'è qualcuno che crede nel destino però è stata detta una cosa importante il 90 per cento apparire il 10 per cento essere e poi pietro ha detto a davide tu sei verbo essere sei ma era anche il il numero di maglia di davide quindi una coincidenza potrebbe essere però forse aveva sulla maglia più che un numero un verbo sei vuol dire essere chiudiamo questi interventi con il massimo rappresentante del calcio regionale il presidente peraltro nisseno quindi un orgoglio ulteriore proprio a testimonianza del fatto che il calcio a calta nissetta si declina in diversi modi una sua è una presidenza dell'elene di sicilia straordinaria ma un trascorso anche nel calcio femminile in tanti settori sempre contraddistinto da risultati quindi parliamo di una persona anche lì che ha fatto e non appare ma ha fatto facciamo un grandissimo applauso a sandro morgana che ci raggiunge sul palco ovviamente qui di calcio ne parlerà sotto tutte le declinazioni per quella che è stata il suo ruolo per quello che è il suo ruolo anche perché il calcio dilettantistico che se ne dica in realtà è la base è quello che tiene vivo poi quello che noi vediamo in televisione in realtà nasce da tutti coloro i quali ogni domenica mattina si alzano per andare a giocare un applauso e grazie per essere qui con noi a calta nissetta grazie grazie a voi e naturalmente non potevo mancare questa era l'occasione giusta per essere per essere qui per essere insieme a tutti voi per essere insieme a davide che che saluto veramente affettuosamente io penso che quando davide giocava facevo l'arbitro di calcio se i miei ricordi sono sono corretti vero e vabbè si viveva due dimensioni di vita differenti e però mi hanno colpito alcune cose io non ho letto il libro però basta basta leggere il capitano coraggioso il capitano coraggioso significa che chi nella vita affronta affronta situazioni di questo genere deve percorrere questa strada così piena di ostacoli ha bisogno di essere coraggioso ha bisogno di essere determinato ha bisogno di credere che veramente si può fare si può fare si può fare tutto quello che magari un altro non avrebbe dovuto fare io non so se avrei avuto al suo posto lo stesso coraggio la stessa forza la stessa determinazione ma probabilmente sono quella forza quella determinazione quel coraggio e mettiamoci l'altra parola l'amore l'amore della moglie della mamma delle figlie l'amore degli amici l'amore delle persone che gli sono state vicine e che gli sono vicini che lo hanno aiutato ad andare avanti io come dire fatto un po un po di ricerche perché volevo dire agli amici ma ha giocato con le nostre rappresentative no ha giocato nella rappresentativa provinciale io oggi ho portato per lui una cosa adesso gliela darò alla fine alla fine di questo di questo momento di intervento e diciamo in un momento particolare del del nostro movimento calcistico direttantistico ieri abbiamo abbiamo fatto la cerimonia di presentazione di conferenza stampa dei calentari dei campionati maggiori di eccellenza di promozione di serie c1 di calciacinque e tra le cose tra le cose che ho detto ho detto anche che bisogna impegnarsi contro contro uno delle dei temi più scottanti che ci riguardano che è quello della violenza che noi registriamo per contro e che combattiamo giornalmente combattiamo con tutte le nostre forze ecco oltre a questo ho ricordato un tema che mi piace ricordare a volte a volte lo faccio ricordato quello che ci ricordava e ci diceva paolo sesto siccome il mondo del calcio un mondo che ci sono tanti maestri tante persone che pretendono di insegnare qualcosa agli altri così non è diceva appunto paolo sesto che l'uomo moderno non ha bisogno di maestri ma i testimoni di persone che attraverso la propria esperienza di vita riescano a trasmettere qualcosa ecco io credo che oggi davide la paglia sia attraverso la propria sofferenza testimone di un percorso di vita che trasmette agli altri e che lo trasmette con questo sorriso con questa forza con questa determinazione io ti voglio bene ti voglio bene ti voglio bene veramente e anche e anche se tu non hai giocato nella rappresentativa siciliana anche se tu non hai giocato nella rappresentativa siciliana grazie grazie ottavio ottavio stato proprio anche se non hai giocato la rappresentativa siciliana io ti ho portato la maglia della rappresentativa siciliana con scritto davide la paglia quindi io veramente come presidente del movimento calcistico siciliano ti eleggo ad onore calciatore della nostra rappresentativa regionale ora sempre e per tutta la vita grazie grazie al presidente fai un giro da attenzione non non vorrei ok ottavio non si sente grazie 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 al presidente morgana grazie anche per l'impegno che spende lo zaino lo restituisco se no ah no pensavo fosse di ottavio per questo e per l'impegno che spende per il calcio siciliano un movimento che si è tenuto vivo anche nei periodi difficili del covid e questo è un giusto riconoscimento adesso torniamo ad ascoltare anzi ascoltiamo per la prima volta una bellissima voce femminile una canzone particolare che piace al nostro capitano e lei è paola cortese e ascoltiamo la canzone poi ne parliamo ho sbagliato tante volte nella vita chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita quante volte ho chiesto scuse e quante no è una corsa che decide la sua meta quanti ricordi che si lasciano per strada quante volte ho rovesciato la clessidra questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa che passa che sia benedetta per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta per quanto sembri incoerente te starda se cadi ti aspetta e siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta a tenercela stretta siamo eterno siamo passi siamo storie siamo figli della nostra verità e se è vero che c'è niente non ci abbandona che sia fatta adesso la sua volontà in questo traffico di sguardi senza meta in cui i sorrisi spenti per la strada quante volte condanniamo questa vita inudendoci da averla già capita non basta non basta che sia benedetta per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta per quanto sembri incoerente te starda se cadi ti aspetta e siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta a tenercela stretta a chi dona se stesso nel proprio coraggio a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio a chi lotta da sempre e sopporta il dolore qui nessuno è diverso, qui nessuno è migliore a chi ha perso tutto e riparte da zero perché niente finisce quando vivi davvero a chi resta da sola abbracciato al silenzio a chi dona l'amore che ha dentro che sia benedetta per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta per quanto sembri incoerente te starda se cadi ti aspetta e siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta a tenercela stretta che sia benedetta grazie bravissima, bravissima Paola Cortese una canzone peraltro particolare che sia benedetta proseguiamo con i nostri momenti musicali perché adesso c'è un'altra canzone Arci famosa di qualche anno fa poi rifatta da un gruppo ultimamente penso che sia veramente un inno alla vita per cui può continuare a cantarsi questo tema signore e signori a noi a voi inedito Capitano buonasera a te grazie grazie credetemi 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 accaduto di notte su di un ponte guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù d'un tratto qualcuna legge nelle sale forse un angelo vestito da passante mi porto via dicendomi così meraviglioso ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso meraviglioso perfino il tuo dolore potrà guarire poi meraviglioso meraviglioso ma guarda intorno a te che toni ti hanno fatto ti hanno inventato il mare tu dici non ho niente ti sembra niente il sole la vita l'amore meraviglioso meraviglioso il bene di una donna che ama solo te meraviglioso la luce di un mattino l'abbraccio di un amico il viso di un bambino meraviglioso 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 un abbraccio al capitano un applauso meraviglioso Ma guarda intorno a te, che toni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare Tu dici non ho niente ma ti sembra niente il sole, la vita, l'amore Meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te Meraviglioso, la notte era finita e ti sentivo ancora, sapore della vita Meraviglioso, meraviglioso Sì, è meraviglioso Meraviglioso Il nostro capitano è meraviglioso, grazie Davide Caetano, bravissimo, bravissimo, ho avuto il permesso da Donatello di sostituirmi a lui perché si è importunato Capita anche questo nelle nostre squadre Vi voglio introdurre la lettura di Giorgio Nell'incalzare della malattia all'interno della famiglia di Davide Lapaglia nasce una definizione molto amara, trementa, brutta La battezzano la bastarda Dopo la perdita del papai di Carmelo la bastarda incalza ma Davide trova aiuto oltre che in se stesso nella Madonna e nel treno bianco dell'Unitalsi di Lourdes Ascoltiamo Giorgio La bastarda incalza ma la mia madonnina mi aiuta Il viaggio in treno è un'esperienza irripetibile Durante la quale si incontrano fratelli e sorelle in un'attimosfera di familiarità Che continua nei sette giorni di pernottamento a Lourdes Dove si incontrano tanti amici in insieme sia tra gli ammalati che fra gli accompagnatori dell'Unitalsi Si ritorna a casa rinati e ancora pronti a lottare Da quella volta in poi sono stati tanti viaggi a altri a Lourdes Qualche volta è un omaggio da parte di mio fratello Peppe Calà La cui famiglia si univa alla mia per pregare insieme Sono stato costretto a annunciare dopo la tracheotomia Mentre mi trovo ammistretta per accettare il mio grado di abitudine all'uso della sedia elettrificata Mi giunge una lettera d'invito a presentarmi alla Commissione Sanitaria di Palermo per un colloquio Considerate le mie condizioni, ho osservato che all'ingresso dell'ufficio di Caltanissetta Non era in funzione ancora la passarella per disabili E che avevo bisogno di due colleghi per raggiungere il mio posto di lavoro La Commissione mi dichiara inidoneo all'attività lavorativa Comunicandomi che non mi sarebbe stato rinnovato il contratto a tempo determinato Prima ancora che giungesse al dirigente del mio ufficio la comunicazione con la predetta decisione commissariale Incremento con assoluta tenacia l'esercitazione relativa all'uso della mano Per poter apporre autonomamente la mia firma E in tal modo riesco a sottoscrivere verso l'ufficio di colloquamento Il contratto a tempo indeterminato Dopo vari anni di precariato Avevo vinto la battaglia per il lavoro Ma mi restava quell'altra battaglia da affrontare Quella della mia malattia Grazie, grazie a Giorgio L'abbiamo già fatto ma credo sia dopo rifarlo Tutti questi sono stralci, tra virgolette, contenuti che troverete nel libro Perché c'è questo camminare, questo raccontare, questo aprirsi Prosegue il momento musicale con una canzone Che tutte le canzoni sono belle, tutte hanno un significato Ma questa la possiamo definire più che un inno Prendo spunto dalle parole che sono state usate dai nostri ospiti Il presidente Morgana ha parlato di testimonianza Davide è un testimone 6 Il 6 di Lomonaco L'episodio raccontato da Tona Tutti con un unico, con un denominatore Che è quello della forza Per cui questa canzone che tra poco canterà inedito Ci racconta di questa forza Un applauso per il nostro capitano E per questa straordinaria serata Anche quando ci buttiamo via Per rabbia o per figliaccheria Per un amore inconsolabile Anche quanto in casa è il posto più indivibile E piange non lo sai che cosa vuoi Credi C'è una forza in noi C'è una forza in noi, amore mio Più forte dello scintillio Di questo mondo pazzo e inutile E più forte di una morte incomprensibile E di questa nostalgia Che non ci lascia mai Quando toccherai Quando toccherai Il fondo con le dita A un tratto sentirai La forza della vita Che ti trasciderà Con sé Amore non lo sai Vedrai una via di uscita Anche quando mangi per dolore E nel silenzio senti il cuore Come un rumore insopportabile E non puoi piazzarti E il mondo è raggiungibile E anche quando la speranza Oramai non basterà C'è una volontà Che questa morte sfida E la nostra dignità La forza della vita Che non si chiede mai Cos'è l'eternità Anche se c'è chi lo offende O chi le vende La di là Quando sentirai Che afferra le tue dita La riconoscerai La forza della vita Che ti trasciderà Con sé Non lasciarti andare mai Non lasciarmi senza te Anche dentro alle prigioni Nella nostra ipocrisia Anche in fondo agli ospedali Nella nuova malattia C'è una forza che ti guarda E che riconoscerai È la forza più festarda Che c'è in noi Che sogno E non si arrende mai Amore mio È la forza della vita Che non si chiede mai Cos'è l'eternità Ma che lotta tutti i giorni Insieme a noi Finché non finirà La forza dentro di noi Amore mio La sentirei La sentirei La forza della vita Che ti trascinerà Con sé Che sussurre Tenerita Ma guarda ancora Quanta vita c'è È veramente bello stare con voi questa sera Un grazie va sopra tutto Davide Capitano Grazie 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 a voi Grazie Grazie a Ineto La forza della vita E questa sera di forza ce n'è tanta Ma ce n'è tanta in tutti noi Per quella che è questa serata straordinaria Nel frattempo Ottavio dove sei? Devi prendere il microfono Come te lo devo dire Ti farò Dove stai andando? Ti ho detto prendi il microfono giù Non ho nascosto Ottavio Ti ho detto devi andare giù E stai salendo Allora Aspetta Giù E giù Su E qua sopra Dai 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 Dove devi andare? Eh? Giù Per bar No cortesemente è vero C'è un medico in sala per favore No aiutate Peraltro vedo le forze dell'ordine Saluto tutti C'è molta confusione Polizia Vigili urbani Carabinieri Donatello Ti faccio arrestare Donatello La verità è questa Che nella mia testa c'è molta confusione Perché davvero sono Mi sento Diversamente giovane Vecchietto Davvero Signore e signori Scusate Facciamo un applauso A chi usa la pillola blu E torna giovane Dentro di me Una cosa che mi ricordava Non facciamo nomi 62-63 Vinciamo il campionato Senza nemmeno una sconfitta Con quasi tutti i locali Avevamo Fiorini Terzino Sinistro Che era un impiegato Della RAI Che si trovava a Caltanissetta E giocava nella Nisse E c'era Grande Nardo Savoia Quel signore là giocava in porta Andaloro C'era Veniro Angioletto Non Fabio Attenzione Non facciamo confusione 63-64 Nel risvegliarsi di Caltanissetta Si risveglia pure la Nisse Facciamo una bella squadra Quinti-Sesti 64-65 Fermo Perché se continuiamo con tutti questi La dico La dico la formazione Perché La scrivevamo Nei Nei libri Della manna di filosofia Anziché studiare Emanuele Canto Io sono l'unico in Italia Aspetta Proviamo un esperimento Scusami Dalla regia ce l'abbiamo La musica di Super Quark Mentre parla No 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 Cambi questa formazione Rinaldi Rinaldi Si leggevano così le formazioni Rinaldi Gerardi Sposito Pulvirenti Turelli Penso De Nobili Fiorito Grammatico Malerba Santagati Allenatore Di Marco Mentre E furono gli eredi Di Triglia Di Vennero Di Savoia E i predecessori Di Cipollone I predecessori Di Calanna I predecessori Di altri Campioni Senti che dobbiamo Continuare Basta Basta Finisco Forza Nissa Allora Per colori quali fossero appassionati di aerogeologiche La prossima serata sarà il mesozoico Ci sarà Ottavio che ci racconterà Allora Ottavio abbiamo dei riconoscimenti Il microfono ti devi portare Ma cosa hai fatto? Sono partito Eri quasi brillante Sono tornato Cosa è successo? Un decadimento c'è stato E allora Perché c'è intanto uno scambio di libri Uno scambio di libri E accanto ad Ottavio Chiamo Rino Carlino Grazie Autore di un libro In cui Confessa che non voleva fare il portiere E invece Ha fatto il portiere Volevo ringraziare il presidente dell'Inps Per questa straordinaria serata Per questa serie di inviti Tutti Ma Ah sei in pensione da oggi Non lo sapevo Non ci siamo messi d'accordo Può testimoniare Va bene così Ho notato Passando nei pressi Di una certa Euforia Di gente che veniva Entrava nel parco E non sapevo cos'era Non avendo altro da fare a casa Anche perché mia moglie Non mi presenta Nessun tipo di cena La sera Entro Entro Scusa Devo fare Entro Tanto Avevo capito che non si pagava il biglietto E allora ne ho approfittato alla grande Che sta succedendo stasera? Che sta succedendo stasera? Che ci fa tutta questa gente? Proprio dietro le mura di cinta Lato gradinata Del vetusto palmentelli Che ci stiamo a fare stasera? Tutti eleganti E impettiti Seduti E ai piedi Di quella che un tempo Nominavamo a montagnetta Ricordate? Proprio quella La tribuna naturale Che ospitava Alla visione della Nissa Di chi non poteva pagare il biglietto Lo ricordiamo un po' tutti Io lo ricordo particolarmente Perché venivo con mio zio E mi portava Alla montagnetta Tribuna Tribuna Poi saltavamo Vedo O forse gli occhi Mi fanno pucci pucci Decine e decine Di volte noti Che hanno celebrato Che hanno celebrato E calpestato Il sagro terreno Alle mie spalle Tutti Dal più celebrato Il giocatore della Nissa E non faccio il nome Perché ce ne sono diversi Ma diciamo Davide Un po' di sveolenamento Va bene Fino al più sconosciuto Il giocatore di terza categoria Hanno bollato Almeno una misera presenza In questo stadio E allora E perché no Indossiamo pantaloncine E magliette Andiamo tranquillamente A dare a quattro calci A pallone Dai Ne ho comprato uno io Stamattina E come succedeva Quando ancora eravamo Metti in erba Che chi portava il pallone Giocava Gli altri Ora fatelo conto In comodità Io gioco di sicuro E chi si distacca Dalla lotta È un gran figlio De Come urlava Mister Luisito Manganaro Che penso Conosciamo un po' tutti Negli sfogliatoi Prima di entrare in campo Ma nonostante L'incitamento di guerra Nessuno dei vecchi calciatori Vedo che abbozza una mossa Per alzarsi E non è che ci manchi la voglia Ma le gambe Sono diventate troppo Neguitose No Ormai è palese Che stasera Non siamo stati convocati Per una partita C'è di più stasera Molto di più Caro Davide Così Mi dicono che si festeggia Davide La Paglia Un dipetto Che ha giocato A eccessi livelli Nella Nissa Nella Nissa A saperlo Mi sento fuori dal contesto Io la gloriosa maglia Della bianco scudata Abba fermati Non l'ho mai indossata In verità Nemmeno quella Verda Merando Che tu hai indossato un anno Mi pare Vero Davide Della San Cataldese Neppure là E allora Visto che non sono stato Suo compagno di squadra Che ho giocato Per sette lunghe anni A Enna E Canicattie Dove Davide È stato solo Fiero avversario Alla fine Alla fine E finisco Alla fine della fiera Al netto del reciproco Rispetto Che Che Pardon Che diamine Ci sto a fare Questa sera Eppure E scopriamo l'arcano Ci accomune insieme A tutti gli altri Ex calciatori Presenti in tribuna Lo sviscerato amore Per il calcio Sport Che ci scorre Da sempre nelle vene Si è domiciliato Sotto il primo strato Della nostra epitermide Un sentimento Che ci portiamo Appresso da sempre Alla stregua Del primo amore Meglio del primo amore Ma anche del secondo Del terzo Fate voi Non abbiamo giocato insieme Io e Davide Nemmeno a Brisco L'abbiamo giocato E questo Lo abbiamo appurato Ma insieme agli amici Sparsi in tribuna Abbiamo rincorso Nei nostri tempi verdi Un oggetto Rotolante Ben identificato E che per fortuna Non finisce mai Di scorrere Poco importa Se nel terreno Del Santiago Bernabeu Di Madrid O nel più famoso Stadio Palmindelli Di Caltanissetta Nota bene E vale per tutti Alcuni passaggi Li ho estrapolati Dal mio libro Non volevo fare il portiere Libro che è stato presentato Anche da Donatello E' stato presentato E trasformato In spettacolo In primavera Al teatro Regina Margherita Ma stasera In mezzo In mezzo a voi In mezzo a meritate E spartificate Lodi per Davide Esco dal discreto Giovanamento popolare E caro Davide Ti tiro Metaforicamente Le orecchie Per la tua assenza All'ultimo Dell'ultimo momento In quella serata E comunque Pissiepp No Un libro Ti portavo Pure a domicilio Sì Proprio A pochi metri Da quella che è stata La nostra casa Da giovani Grazie Applauso Penso che Davide Basta Pardon Scusa Fai consegna del libro Applauso Grazie Ottavio scriverà un libro Non volevo fare il presentatore Questa è sottile Grazie a Rino Gli sport si avvicinano Qui ho visto Poc'anzi Un altro presidente Della Federpesistica regionale Peraltro componente Di una commissione Dove Totò parla Dov'era Dov'era Starà facendo slangio Peraltro Totò Senza offesa Non vederti Capisci che Come si suol dire Risulta quasi Eufemistico Anche per la Federpesistica Ottà Devi stare qua Sono sempre presente Anche se mi allontano Io ho sensazione Che nella pizza Non c'era origano C'era qualche altra cosa Grazie Totò Che vuole dare un saluto Il microfono Ce l'ha Ottavio Totò prego Grazie per l'invito Davide Una bellissima serata Io rappresento uno sport Dove la forza È importante Ma io penso che Davide Forse Batterebbe con la sua forza Tutti i pesisti Più forti del mondo Rappresento anche là Uno sport paralimpico Perché Sono anche presidente Di uno sport paralimpico Vedo anche persone Carrozzate E devo dire che Gli sporti paralimpici Sono veramente eccezionali Questi Questi ragazzi Non si lamentano mai Invece I normodotati Si lamentano Quindi hanno una forza in più Hanno una forza interiore Io Non sono un appassionato di calcio Conosco Davide Da quando era piccolino Perché eravamo ragazzini La mamma Il fratello Giocavamo insieme E veramente Devo dire che Sei una persona Che Intanto è attorno a te Delle persone stupende Che veramente Sei fortunato Non tutti Hanno delle persone stupende Come quelle che hai Tu attorno Tua mamma Tua moglie E le tue figlie Complimenti Hai una forza interiore Eccezionale Sei veramente Un esempio per tutti Grazie 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 al presidente Reggio della fede pesistica Ottavio Chiudiamo questo momento Dello sport Con il Comitato olimpico Nazionale Italiano Salvatore Scarantino Prego Con Scarantino Diciamo un cognome Della storia del calcio Nisseno Attenzione Anche se lui era Soltanto Arbitro Nel mondo Perché ti allontani Avvicinati Avvicinati Nel senso da quel lato Buonasera a tutti Io Nella qualità Di delegato provinciale Del Cone Di Caltanissetta E membro Della giunta Regionale Del Cone Di cui mi onoro Far parte E voglio portare Il saluto Del presidente Sergio D'Antoni Che non è potuto venire Ma nel contempo Sono molto felice Di essere presente A questa manifestazione In onoro Di un grande campione Non solo di sport Ma di tanto Tanto altro E un esempio Per tutti Non solo Per gli sportivi Per tutto quello Che fa Ma soprattutto Per il coraggio Come affronta Questa situazione È stato un grande Campione sicuramente È stato uno Che nell'ambiente Sportivo Di Caltanissetta È conosciutissimo In assoluto Ma soprattutto Praticamente Ha saputo aggregare Intorno a sé Tantissimi amici Io vedo qua Centinaia Centinaia Non di persone Che assistono Ma di amici Veramente Di Davide E questa è la cosa Più importante Che possa avvenire In una città Come Caltanissetta Che in questo momento Si sta risvegliando E ho potuto appurare Per esempio Assistendo a partite Di pallavolo Dell'endusiasmo Che si è creato Indorno Alla squadra Di pallavolo Stesso discorso Stesso discorso Per la squadra Di pallacanestro Che ha vinto Il campionato Stesso entusiasmo Che ho potuto Costatare Qualche giorno fa In occasione Della presentazione Della squadra Della Nissa Centinaia Di persone Presenti Quando giocava Che era un grandissimo Giocatore Ma in questo momento Per quello che fa È come lotta Che è un esempio Che deve essere Per tutti Io voglio solo leggere La dicitura Si facciamolo Un bell'applauso Per quella che è La scritta sulla targa Che sarà consegnata Tra breve Allora Questa è la targa Che è del comitato regionale Con di Caltanissetta E con la dicitura Al grande capitano Davide Lapaglia Fulgito esempio Di sportività Ed attaccamento Ai valori Dello sport Il coni Riconoscente Poi la Bene Bene Proseguiamo Nel frattempo Sul palco Però la presentazione So che la vuoi fare tu E poi ci sarà Il momento finale In cui ovviamente Oltre a fare il loro saluto Ci sarà una consegna istituzionale Vediamo sia il sindaco Che l'assessore Allo sport Ma c'è anche il vice sindaco Ne parliamo fra breve Ma senza fare spoiler Andiamo Vai Ottavio Sì È chiaro che la voglio fare io Perché si tratta Non siamo in In celebrazione religiosa Della terza lettura È soltanto Un brano Tratto dal Nostro libro Dico nostro Perché Davide Mi ha dato davvero Questo onore Di scrivere assieme a lui Tanti tanti episodi E questo è l'angolo Nel capitano coraggioso Quanto lo leggerete È l'angolo del cuore Dove Ascolterete Un amico Una figlia Una delle due preziose perle Che ha Davide Sono Esther E Sofia E un estimatore Ascoltiamo La voce Di Giorgio Villa Buongiorno Roberto Mi parlò molto bene Di un giovane calciatore Nesseno Che giocava Nelle categorie minori E Peppe Colombo Mi confermò Il suo valore E quindi Decidemmo insieme A Claudio Mondini Di prenderlo All'anissa Che allora Militava in serie Di Davide Entrò nello sfogliatoio In punta di piedi E con un sorriso Accattivante Avremmo scoperto Da lì a poco Che dietro Quel rispetto E quell'educazione Si gelava Un piccolo guerriero Poliedrico Sempre pronto A esaurire I compiti Che i vari allenatori Gli davano Crescendo Si specializzò Nel ruolo Di difensore centrale Molto forte Affidabile guida Per i giovani E con l'antiarmonico Nello sfogliatoio Quante vacanze Insieme Davide Duccio Poi In un momento In cui stava Intraprendendo La carriera Di allenatore Con ottimi risultati Arriva lei La stra Nel frattempo De Nero Gli aveva regalato Esther e Sofia E tutti loro Insieme al fratello Carmelo E alla mamma Enza Intraprendono Questo lungo cammino Irto di difficoltà Ma non era finita Il destino Riserva una brutta carta Ci lascia suo fratello Carmelo E ancora una volta Bisogna riprendere Il cammino Riprendi sempre A testa alta Tu Davide Vai avanti Con tante difficoltà Tanto coraggio Chiedi aiuto Lotti Speri E nel frattempo Peggiori Il tuo corpo Grande amico E foriero Di benessere Successo Per uno sportivo Ti abbandona Sempre di più E sempre di più Cerchi tu Le risorse interiori Per far star bene Nella tua famiglia Scombussolata Dal dolore La grande tristezza Che si prova Quando si perde Una risorsa Di grande valore Tu sei riuscito A trasformarla In desiderio Di non disperdere Ciò che di prezioso Circonta Tutela Avvolge la vita Della tua grande famiglia E come un antico Artigiano giapponese Ricostruendo un vaso rotto Dell'imperatore Dell'epico Creò il Kintsuroi Ovvero L'arte di riparare Con loro Tu che quest'arte Non conoscevi Hai accettato la sfida E accettando la sfida Hai raccolto Tutti i cocci Del tuo corpo spezzato E della tua anima Tormentata Li hai ripuliti Delle impunità Inutili e nocivi Li hai ascoltati Masticati E dopo averle digeriti Hai messo ogni cosa Al suo posto Con calma Senza forzare Perché in ogni puzzle Al suo sempre Il giusto incastro E se nella vita Come dicono i grandi Il destino È servire le carte Tu hai dimostrato Ancora una volta Che siamo noi Con il nostro atteggiamento A giocarcela Il meglio possibile O se vuoi Come dice Recalcati È quel che si fa Di ciò che si accade A fare la differenza E tu insieme A quella Grande squadra Che è la tua famiglia Stai insegnando Ad ogni uomo Che cos'è Essere differenti Essere positivi Essere felici In questo cammino Che attraversa L'imperfezione Della vita Grazie al maestro Anche questo Era uno stralcio Adesso è un momento Particolare Perché ci sarà Una raffica Proprio quando dico Una raffica È una raffica Di nomi Di ex atleti Di giocatori della Nissa Poi ci sarà Il riconoscimento per Davide Ci sarà il sindaco L'assessore Abbiamo un filotto Ad alta velocità Sempre senza microfono Hai il microfono in mano Ma parla senza microfono Va bene No no Non sono preparato È così Non vorrei che qualcuno Pensasse fosse Uno show organizzato Allora Aspetta Intanto mettiti qua accanto Perché hai questo timore Perfetto Detto questo Io mi sposto Perché questo È frutto del suo lavoro Ha stalkerizzato Tutti questi atleti Un paio di volte È stato anche ripreso Dalle forze dell'ordine Perché chiamava Sono Ottavio Bruno Hai giocato nella Nissa? No Aveva sbagliato numero Quindi non aveva giocato Non è vero Il microfono devi usare Perché parli Molte volte è capitato Allora Nomi Tra dieci minuti Ti stacco la luce Va bene Un riconoscimento Viene dato A colui il quale A nostro avviso Alviso mio È di Davide Che è sicuramente Più competente Di me di calcio Precursore di Davide La Paglia Come difensore tecnico Difensore che portava La palla La palla a terra Vorremmo sul palco Carlo Roberto Pulvirenti È il dottore Raimondi Che gli consegnerà Questa targa Ricordo di questa serata E credo che Pulvirenti Possa essere fiero Di essere precursore Di un giocatore Molto elegante Dovete sapere Che Davide Nello spogliatore Veniva chiamato Carla Fracci Lui non era Quel giocatore Che graffiava Il terreno di gioco Lui lo accarezzava Con la sua eleganza E lo stesso Carlo Pulvirenti Giovanissimo Di 81 anni Auguri Il dottore Raimondi Premia Allora Un attimino Per parlare Serve il microfono Questo è un annuncio Che faccio al pubblico A quelli che saliranno Così può servire Io vi ringrazio Sono commosso Perché Venire qua Dopo 35 Quando sono 35 45 45 Quello che sia È effettivamente Un onore Io ringrazio te Davide Io innanzitutto Ringrazio te Per le belle parole Che hai usato Nei miei confronti Poi ringrazio La conoscenza Con Davide Con Re E con tanti altri amici Che purtroppo Non ci sono più Ed io Amaramente Li tengo nel cuore Questa sera Vengono a mancare Tante persone Che hanno giocato Con me E li vorrei ricordare Con un buon applauso La targa Viene consegnata Pippo Raimondi Che è titolare Del laboratorio analisi Su Caltanissetta Prego Io desideravo Oggi per me è stato Un piacere Essere qui Essere stato invitato Dall'amico Dottore Bruno E aver avuto La possibilità Di premiare Così Una gloria Così importante Per la storia Calcistica Di Caltanissetta Perché Carlo Pulvirenti Io ero ragazzino Allo stadio Palmintelli Qualche anno Meno di lui Ma l'ho sempre apprezzato Per le qualità sportive Ed anche umane Che trasmetteva A noi ragazzini Della Nissa Grazie ancora E grazie al dottore Bruno Grazie Pippo Grazie Roberto Attenzione Alle scale Il secondo Riconoscimento Lo avrei attribuito Nella storia A Gianni Di Marco Che è impito Sul palco Unitamente All'Irio Torregrossa Che consegnerà La Targa Ricordo Lirio Torregrossa Come giocatore Di San Cataldese Ma di una Nissa Molto forte Assieme a Davide Assieme ai fratelli Pecoraro Gianni Di Marco È stato Un applauso A un ragazzino Di 83 anni Che quasi Dovette fare Un repulisti Dei locali Perché venivano presi Da Rizza Da Oberto Adesso dovrei fare Mente locale Ma non mi fate Sciorinare le mie Conoscenze Perché ce le ho ben chiare E fece Delle due forti squadre In due stagioni Di rinascita davvero Un applauso anche a Lirio Prego Buonasera Buonasera a tutti La squadra che aveva vinto Il campionato L'anno precedente Che quindi Ci dava Un impegno maggiore Del solito In quanto Dovevamo fare Di meglio E di più E A poco a poco Abbiamo costruito Questa squadra Alcuni Sono qui E Alcuni di loro Probabilmente Io ho cambiato La loro vita Parlo di Cipollone Che sono andato a prendere A Napoli Parlo di Emilio Re Che sono andato a prendere Al nord E Altri Li conoscevo Dalle rappresentative siciliane Nelle quali avevo militato E pertanto Era più facile Conoscerli Tipo Aldo Tringali E E Roberto Ovviamente Roberto Pulvirenti Col quale abbiamo Iniziato Per allora Un calcio nuovo Un calcio diverso Non sapevamo Che Sganciare Lo stopper Come si chiamava Allora Il difensore centrale Significava Fare La zona Non più Marcare a uomo Non sapevamo Ma lo facevamo E con ottimi risultati Che Essere un uomo in più A centrocampo Dava Dei vantaggi Che altri Non avevano E che Li sorprendevano spesso E ricordo soprattutto Pur avendo allenato Per circa 400 partite E una ventina di squadre In Sicilia Il calore E L'afflusso Del pubblico Al Palmentelli E quando qualche tempo fa Ho detto Palmentelli O Tomaselli Francamente Potete capire Da quale lato Pendeva il mio cuore Grazie Grazie Gianni Il terzo riconoscimento Va Immergiamoci sempre Col cuore Quei benedetti Meravigliosi Locali Davide è stato Un locale Ed è diventato Capitano Della Nissa Un locale Longevo Ha giocato 12 stagioni Nella Nissa Fra Serie D Ad alti livelli Serie D Per la salvezza È stato Benedetto Anzaldi Che vorrei Qui sul palco Assieme a me Per ricevere Il meritato Riconoscimento Per una Meravigliosa Carriera E lo ricordo Anche avversario Nella Savoia Io ero nella Libertas Ci davano lezioni Di calcio Perché erano Molto più grintosi E studiavano di meno Noi eravamo costretti A studiare E poi a giocare A calcio Loro invece Giocavano sempre A calcio Benedetto E ci battevate Auguri Grazie Questo La do ad Ottavio Grazie a te A Davide Per il premio Mi ricordo Davide Quando calcava Il palmentelli Da terzino Da terzino Poi stopper Poi libero Poi con la fascia Di capitano E da capitano Prima A capitano A lui È stato sempre Positivo E sempre Diciamo Con l'amore Verso questa Grande squadra Grazie Benedetto Sei gentile Auguri E complimenti E ricorda che La Nissa E gli sportivi Nisseni Ti hanno sempre Nel cuore Soprattutto noi amici Assolutamente Consentitemi E permettetemi Un ricordo No 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 Questo lo devo dire Lo sussurro Velocemente E se c'è un parente Che venga Sul palco Ricordiamo Con un applauso Lino La Cagnina Che ha scritto Anche lui Nel libro È stato il primo Che interpellai È il primo Che ci ha dato Il pezzo A febbraio Il 23 febbraio Purtroppo Non è stato più Con noi Ringraziamo Con un forte Applauso Forse il più Grande E vero Innovativo Giornalista Sportivo Nisseno Pippo Grosso Se c'è qualche Se c'è qualche familiare Mio fratello Silvio Bruno Non è un discorso Di facile cuore Ma Silvio Bruno Per il quale chiedo Un applauso Sarebbe con noi Sicuramente E se c'è qualcuno Sicuramente Ci sarà qualcuno Perché Di Pippo E Lino Non c'è nessuno No No Sì Bene E Sabrina Bene Un applauso A Sabrina La Cagnina Brava Non Avevo paura E anche Valeria Le sorelle di Lino È molto Molto bello Avervi Perché Non vi avevo visto arrivare Non avevo visto Francesca E questo È quello di Silvio Quello di Lino Per favore Ragazze Grazie Sapete cosa Mi legava Lino Marcello Fabio Grosso Forse non sono potuti venire Sarebbe stato bello Averli Abbiamo sul palco Serena Bruno Figlia di Silvio Che mi ha fatto innamorare Del calcio Nisseno Bene Doni Vieni E cerca di Fare ritemprare Lo spirito A un povero vecchietto Che si sta emozionando Non poco Davide Dammi coraggio Più che coraggio Ti ci vorrebbe una flebbo Comunque Questo Per un altro Allora Dobbiamo continuare Con le premiazioni Giusto Però Queste sono tutte Le premiazioni Particolari Quindi Scendi nuovamente Come fanno le host Potete andare Da questo Qui c'è pure Il corridoio luminoso Neanche a farlo apposta È veramente luminoso Portati il microfono Avrà fatto Si sente Quando fai Si si Dove andate Cosa portate Un fiorino Cosa portate Un ottavio Vieni Allora Ce l'hai il foglio Devi parlare col microfono No 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 Il foglio Perché questo Continua L'angolo del cuore Il premio Lo consegnerà Davide A un suo Mettiti qua davanti A un suo Figlioccio Fabio Vennero È L'atleta Il calciatore Nisseno Di calzarissetta Che ha fatto Più golle Nella storia Della Nissa Il massimo Dei cannonieri È Ernesto Cipollone Ma non è Nisseno Poi segue A ruota Peppe Colombo Ma non è Nisseno Anche se D'adozione Lo sono Tutte e due Fabio Vennero Con 64 golle Nella storia Della Nissa Viene premiato Dal suo Pipino Non ho capito Perché Pipino Adesso ce lo dice Fabio Che Vedi Donatello Non sono solo io Lento Anche Fabio Non riesce a sganciarsi Dalla morsa Dei suoi Familiari Un applauso A Fabio Ecco Con la signorina Con la miss Bravo E allora Perché Pipino Fabio E poi ritiri il premio Intanto buonasera a tutti Un saluto a tutti Grazie a Davide Per l'invito E noi ci sentiamo Quotidianamente Ogni giorno E fino a ieri sera Voleva sapere Se noi eravamo presenti Ma come potevamo A non essere Presenti A questo appuntamento Pipino perché Io nasco Con Davide E Daniela Perché per me Sono veramente Fratelli maggiori Fratelle e sorelle Sin dai tempi Della Nissa Dai tempi di 16 anni Mi hanno messo la testa a posto E lo posso dire Perché mi portavano Sempre dietro Come un figlio E per me È veramente Un onore È un'emozione Indescrivibile Grazie Grazie Di cuore Grazie Un bacio a Davide Adesso chiedo collaborazione A persone sicuramente Più in gamba di me E più impegnate Nel tempo Che dedicano A Caltanissetta Nel ringrazio Ringraziare il direttore Del parco archeologico Di Gela Di tutte queste bellezze Archeologiche Che è il dottore Luigi Maria Gattuso Che è qui presente Vi invito ad applaudirlo Perché è davvero Una competente Tanto da meritare Anche un'extra Provincialità E sovrintendente Anche a Ragusa Il che è tutto dire Però vorrei Adesso che Il sindaco Consegnasse La benemerenza Cittadina E poi Pietro Lomonaco Si prepari A consegnare Il premio Nisseni nel mondo A Davide Iniziamo con la benemerenza Signor sindaco Buonasera a tutti Buonasera a tutti Buonasera a tutti Tante bellissime persone C'è Emilio Qua davanti Che ha fatto Anche lui La storia Del calcio nisseno Sono tutti qua presenti Allora Quello che consegnerò Stasera È una benemerenza Cittadina Che già Davide Si è guadagnato In sala consigliare Perché È stato insieme a noi E insieme a tutti I consiglieri comunali Che all'unanimità Hanno votato Per Per la consegna Di questa benemerenza Questa idea Di accoppiare Questo Non è un premio Un'onorificenza Che la città Di Caltanissetta Ha il suo figlio Che è rappresentativo È rappresentativo di cosa? Capitano Della squadra Di calcio Vedi che I fiocchetti qua Sono giallorossi Ma che Sono i colori Della città Di Caltanissetta E della Nissa Quindi È perfettamente In tema Il capitano Della squadra Di calcio Storica Importante Della nostra città Che noi sosteniamo Sempre E Domenica giochiamo Quindi Dobbiamo recuperare Il 3-1 Di Favara Questo è importante Perché dobbiamo passare Il turno di Coppa Italia Ricordiamocelo sempre Perché si gioca A pallone Quindi Questo è importante Quindi Abbiamo Abbiamo portato Avanti questa iniziativa Insieme a Ottavio E insieme al suo premio Nisseine del mondo Perché è giusto Continuarlo Perché è una bellissima idea Di Ottavio Che a noi È piaciuta tantissimo E abbiamo Insieme a Fabio Pensato Di portare avanti La benemerenza Perché benemerenza Nella Nissa Ci sono stati Tantissimi calciatori Molti sono qui E ce ne sono tantissimi Hanno fatto tanti gol Hanno fatto la difesa Hanno fatto Il centrocampista Hanno fatto l'assist Tutto quello che volete Però La benemerenza A Davide Viene data Per quello Che ha fatto prima E perché Per quello Che fa ora Insieme A Daniela E alle ragazze E tutte le persone Che gli stanno accanto Cioè vedere Davide Sempre Sempre con il sorriso Sulle labbra E lo stesso sorriso Stampato Sul viso di Daniela E sul viso Delle sue figlie È veramente Un'esperienza incredibile Perché È un modo Per stare al mondo E per combattere E per combattere Contro una malattia Che avete definito Bastarda Perché tale è E quindi Tutto questo Per noi È una testimonianza Importantissima E quindi La città Ti rende Onore Ma rende onore A te A Daniela E alle ragazze E ripeto Tutte le persone Che ti stanno accanto Che ogni giorno Stanno insieme a te Perché accanto a te C'è forse Una vera squadra Che è quella più importante Bene Quindi consegno adesso A Davide La benemerenza Che leggo Allora Città di Caltanissetta A Davide La Paglia Per avere rappresentato Nella sua brillante carriera Da atleta La città di Caltanissetta Al capitano Coraggioso Per la sua Determinazione Impegno E forza Con la quale Quotidianamente Affronta e sfida All'avversario Più ostile L'affetto Della cittadinanza Sì ulteriore forza Per continuare Questa importante lotta Grazie Davide Campione E capitano In tutto Applauso Applauso La firma Non è Il sindaco Roberto Gambino La firma è mia Ma c'è scritto L'amministrazione comunale E l'amministrazione comunale È costituita Da sindaco Giunta E consiglieri comunali Perché tutti quanti All'unanimità Abbiamo Voluto Riconoscere Questa beneverenza A Davide Ne approfittiamo Anche per ringraziare Per quello che è stato Il contributo Fattivo In termini di organizzazione L'assessore allo sport Fabio Caracausi C'è anche il vice sindaco Grazie a Gianmusso Che saluto Così come tutti i consiglieri Comunali Che hanno votato Questa beneverenza Che è nata È frutto Di un'idea Di Ottavio Bruno E già meriterebbe Un applauso Che Ottavio Bruno Abbia avuto un'idea È già tanto È già tanto Ma ne ho avute tante Dai Donatello Mi rendo conto Sei invidioso Come? Sei invidioso Perché sono io A proclamare Nisseno nel mondo Il mio fratellino Davide Lapaglia Invito Pietro Lomonaco Che Per me Rappresenta Uno dei massimi Dirigenti calcistici Come società sportive Non parliamo Di federazioni Della Sicilia È un amante Del calcio Quanto gliel'ho detto Mi ha detto Una frase La sanno solo loro due Mi hai detto subito Quel ricciolino Col numero tre Che mi piaceva tanto Adesso premialo Come Nisseno nel mondo Ecco Ricciolino Nisseno nel mondo Per coraggio Animo E amore Un'ultima cosa Voglio dire Davvero Non parlo più Quanto ho iniziato Questa avventura Del capitano Coraggioso Ragazzi Davide io Me lo ricordavo Calciatore Andavamo allo stadio Insieme E tante altre cose Una volta Lo accompagnai A vedere Nissa Cittanovese Ebbe una disavventura Non sapevo Come porgermi Perché Non volevo più Vederlo Mi dispiaceva Che era ammalato Sono andato La sua moglie Consignora Buongiorno Ti ricordi Daniela Che venne al museo Ma come mi devo porgere Con Davide Si deve porgere Nella maniera Più naturale possibile Perché Davide È quello Di prima Ed è vero È il coraggio Che dimostra E che mi ha dato Perché quello Era un momento In cui io avevo deciso Di smettere Purtroppo non ho smesso E ho portato A Caltanissetta I miei idoli Di una volta E il nostro dirigente Lomonaco Al quale cedo Il microfono Per un ulteriore saluto Ed è in comio A Davide Io Come ho detto prima Mi sono emozionato Nel Seguire un po' La vicenda di Davide Me lo ricordavo Ragazzo Come dicevo prima Grandissimo Professionista Poi dopo Rivederlo Poi nella malattia E la capacità Che sta avendo E che ha avuto Di accettarla Di viverla Con grandissima forza Con grandissimo coraggio È un esempio Per tutti quanti Io Lo porterei Lui ha scritto un libro Ma io questo libro Lo farei vedere Un pochino a tutti La dignità Il coraggio La forza Sua Dei suoi familiari In questo Faccio veramente I complimenti Signora Sono Un qualche cosa Da tenere presente È uno spot Anche da far vedere Ai giovani di oggi Perché oggi Purtroppo Abbiamo un po' Qualche problematica Nel vedere I giovani Come crescono E nel mondo In cui crescono Davide È un esempio È un esempio Positivo E quindi Io Sono venuto Con grandissimo Piacere L'augurio mio È che Una cosa del genere Si possa ripetere Ancora E mi troverai sempre Accanto a te Davide Ragazzi Stiamo finendo davvero Aldo Credimi Quelle belle rovesciate Che facevi È storia È storia Allora Io adesso chiedo Aspetta un attimo Dimmi tutto Siccome hai rotto Le Le scalette Prima che tu continui Siccome so che sei Una persona timida E di poche parole Dove vai? Perché ti muovi? Sono qua Tu avevi preparato Una lettera di ringraziamento Poi ha detto Forse Ha detto così Ve lo giuro Ha detto Forse mi dilungherò Appena ha detto Forse ci siamo messi a ridere Quella è stata la parte C'è il maestro Giorgio Abbiamo convenuto insieme Che questa è una lettera Volevo che non si leggeva E beh Fategli un applauso Prima Ottavio E poi alla lettera Che ha preparato Per questa serata Che il maestro Giorgio Ci basta Zitto Ottavio Quindi dice Ottavio Grazie Davide Lo dico col cuore di amico Sportivo Papà e nonno Essere sintetici E pragmatici Nel capitano coraggioso È molto difficile Come è difficile Non aprire il cuore A sentimenti intensi E intrisi di valore Il solo Davide Però non può essere Testimonial Di rinascita E professore di vita Il solo Davide Non può essere Condottiere e capitano Lui e gli altri lui Hanno bisogno Di essere capiti Non aiutati Collaborati E non commiserati Devono sentire Dentro il loro cuore Che i cuori degli altri Sono proiettati All'unisono Verso intendimenti Di crescita Verso il superamento Delle barriere E verso la comprensione Fra le persone Che sanno capire Che tutto è possibile Che tutto è vivo Solo se si vuole Avere scritto con lui E per lui È un privilegio Che estende Il contenuto Delle narrazioni A tutti noi A tutti noi Che amiamo la vita E che tentiamo Di renderla Con i sogni In realtà Avere deciso Il 24 giugno Del 22 Di trasporre Attorno alla vita Di Davide Un piccolo mondo Nisseno territoriale Che racchiude Un desiderio Di rivalso E di rinascita Con gli idoli Di allora È stato Un momento illuminato Che ci ha consentito Di capire Di accettare E di amare Grazie Davide Grazie Questi pensieri Allora Dopo le lettere Di Jacopo Ortis Le lettere Di Ottavio Bruno Lo troverete A parte lo scherzo Perché anche Davide Voleva fare Dei ringraziamenti Però i ringraziamenti Di Davide Chi li legge? Chi li legge? Sofia Sofia Devi dare il microfono Certo Ho sbagliato Doveva essere Sofia Buonasera a tutti Il 24 giugno 2002 Grazie Alessio Cordova Gianluca Italia Gianluigi Chiarelli Amaglio Mendolia Alcuni degli oltras Dei tempi In cui giocavo io Siamo riusciti A organizzare una giornata All'insegna del calcio In cui ho incontrato Tutti i miei compagni Di squadra della Nissa Con i quali ho condiviso La gioia di vincere il campionato E insieme ai quali Abbiamo fatto la storia Della Nissa In seguito a questo evento Che mi ha riempito di gioia Chiamai un amico Un fratello per me Ottavio Bruno Che mi ha visto crescere Fin da quando ho iniziato A dare i primi calci Al mio amato pallone Alla Don Bosco Gli dissi subito Mi ha detto che avevo voglia Di scrivere un libro autobiografico E lui senza esitare Mi rispose di sì Quando io ho consognato Ciò che avevo scritto Si è messo le mani nei capelli Perché non sono molto bravo A scrivere D'altronde a scuola Non ne volevo E lo può dire La mia mamma qua presente Oltre ad Ottavio Ci sono tre persone importanti Tra le mie amicizie Che quando voglio organizzare qualcosa Si mettono sempre a disposizione Per realizzare i miei desideri E loro sono Donatello Polizzi Davide Il Ruvolo E Tony Maganucco Con Donatello ci conosciamo Dai tempi dell'oratorio Giocavamo insieme Ed ero un grande portiere Con Davide siamo sempre stati avversari Ma con rispetto E fraterna amicizia Abbiamo giocato insieme A rappresentativa Mentre Tony ha fatto parte Del mondo del calcio Ma con il ruolo Di giornalista sportivo Che seguiva la Nissa Voglio ringraziare Anche il professore Gangi Che si è unito a noi Per rendere il libro Ancora più bello Ringrazio l'architetto Luigi Maria Gattuso E la sovrintendente Bullo Daniela Che ci ha permesso Di usufruire Del bellissimo parco archeologico Voglio ringraziare Anche la sovrintendente Daniela Bullo Ringrazio il comune Gli assessori I consiglieri Che sono sempre disponibili Per rendere in realtà Gli eventi da me voluti Ringrazio gli sponsor Che hanno contribuito Anche loro Per la realizzazione del libro Ringrazio coloro Che hanno speso Delle belle parole Nel mio libro Ringrazio a Giorgio Villa Le coreografie di Alba Bifarella Paola Cortese E Gaetano Di Tavi Che cantano e ballano Per rendere la serata Bella e piacevole Un grazie anche A Totoventi Ringrazio anche Colore quali Hanno trovato il tempo Di venire stasera E condividere con me Questi momenti importanti Ringrazio infine La mia famiglia E mia mamma Che mi stanno sempre vicine E mi danno la forza Di lottare Contro la bastarda Anche se ad ogni evento Mi dicono Che è l'ultimo Che devo organizzare Grazie a tutti Grazie 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 Adesso Chiederei a Michele Andaloro Di farsi girare Emilio Re Di farsi girare Poi Bene Bene Poi dirò dei nomi Quanto li chiamo Cortesemente Dovete Venire Qui Accanto A Davide E allora Solo una cosa Grazie Dato l'applauso Grazie per i ringraziamenti E un pensiero Per Tony Maganucco Doveva essere qui con noi stasera Le sue condizioni di salute Non sono Ottimali E a malincuore Ha dovuto rinunciare Ma fino ad ora Mi ha mandato 636 messaggi Per Davide E per tutti Detto questo Qui tutti i protagonisti E la serata E poi ovviamente Ci saluteremo Con il coro Emilio Re Si mette accanto A Davide E anche Michele Andaloro E poi vorrei che venissero Vittorio Vullo Mario Malerba Una delle mezze ali Più forti Della storia Del calcio nisseno Pippo Calanna Angelo Venniro Che è papà Più famoso Per essere papà Di Fabio Che per i suoi Trascorsi Di alla destra Della Nizza Aldo Tringami E grande mediano Che abbiamo avuto L'onore di avere In bianco scudato Ernesto Cipollone Il nostro grande capitano E dove sono arrivato Salvatore No Salvatore Non è potuto venire Che ha il covid Cristian Caccetta Mi pare che è venuto No Con la squadra Cristian Dove sei Ti telefono Guarda da una settimana Mi sa tanto che Terranova Non ha capito Che ha a che fare Un applauso A un capitano nuovo Per modo di dire Nuovo Bene Sovrastami Va bene Va bene Cristian Caccetta Giuseppe Federico Locale Alberto Triglia È uno dei componenti Di quella squadra Imbattuta Tutto l'anno Del 62-63 Michele Andaloro È qua Andrea Pernicano Poi 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 Attorno a voi Pippo Ciao Ci vediamo Finalmente Ci sentiamo Poi vorrei Accanto A questa Diciamo Ideale Arco Che si sta creando Alba La nostra Meravigliosa Alba Grazie Alba Veramente Mamba cosa ha fatto Dietro il palco Grazie Facciamolo l'applauso Giorgio Villa Lasciamolo là Però No 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 Non lo facciamo scendere Giorgio è messo lì di lato Lui lo sai Sovra Sovrintende Con la sua voce La sua maestria Il professore Marcello Ganci Ragazzi Professore Può venire un attimo Preside Del Villaggio Santa Barbara Della scuola media Ha avuto E Davide Deve chiedere Venia Il coraggio Di riportare Il lingua italiana Alla tua biografia Quando Sofia L'ha vista Ottavio Ho dovuto chiedere aiuto A illuminare Prego professore La prego Marcello Ganci Poi vorrei Qua vicino Beh Totò Venti È sempre qua Giovanni Profita Un altro povero martire Del capitano coraggioso Perché io ero fermo A stampare libri Mi sedevo accanto Al tipografo Metti questo qua Piglia quello là Fai questo Fai quello Adesso non è più così Dottore Gattuso C'è a dare lo file Devi mandare Li ho fatti impazzire Giovanni dove sei? Giovanni Poi Poi Giovanni Profita Ebbè il signor Sintaco è qua Rimane lì Gattuso Caracausi Il dottor Tona E un'altra martire Mia Poverina Maria Dell'Utri In Montoro Che è l'impaginatrice Del libro Gliel'ho fatto Impaginare Diciotto volte Ed è sempre Trovava da ridire Ottavio Rifai questo Adesso le persone Che ho indicato Unitamente alle autorità Riceveranno Organizzerà Prima del coro Che ci saluterà Casomai Lo diamo dopo Il riconoscimento L'importante È averli nominati Sanno Che ci sarà qualcosa Per loro Certo Certo Peraltro stiamo controllando Perché dalla regia Vediamo se c'è un ultimo Contributo a sorpresa Nel frattempo Siccome dobbiamo ascoltare I diapasong Come? Wow Wow Ma perché dici Wow e abbraccio? No È abbraccio Giovanni Che gentilmente Onestamente Neanche il TSO Ti salva Allora Dicevo Il diapasong Però vogliamo conoscerli Prima della sigla finale Per questo straordinario coro Ne parliamo con Gabriele E allora Qualche notizia Sulle voci Le emozioni Il vostro lavoro La vostra opera Peraltro Loro sono di San Cataldo Lo possiamo dire Allora intanto Buonasera a tutti Non ci siamo salutati prima Ci salutiamo adesso Noi siamo appunto Il gruppo vocale diapasong Di San Cataldo Come potete vedere Siamo pochi Siamo un gruppo vocale E facciamo Come avete potuto sentire All'inizio Un tipo di musica Un po' diversa Non è esattamente Quello che Ci si aspetta Quando si sente un coro È più musica moderna Un po' Un po' contemporanea Il nostro messaggio E vuole essere anche Un po' Un ringraziamento Il messaggio che volevamo Far passare stasera È quello di trasmettere Sempre qualcosa Trasmettere sempre Un'emozione Infatti i nostri concerti Quando noi ci ritroviamo A fare musica Insieme al pubblico È proprio la volontà Di voler passare Un messaggio Voler passare Un'emozione È proprio per questo Ci tenevamo tantissimo A ringraziare Tutti A ringraziare Davide A ringraziare Ottavio Per averci permesso Di essere qui stasera In questa cornice Bellissima E a condividere con voi Un momento davvero Unico Quindi Grazie mille E spero buon ascolto Per dopo Grazie a voi Grazie per l'emozione Che avete regalato prima Per quella che state Per regalare Vediamo se dalla regia Mi danno un cenno Sulla sorpresa Dopo Dopo Allora sorpresa dopo E allora Doveva essere la sigla Potrebbe essere una sigla Con appendice Come avviene nei film I cinematic della Marvel Che poi ci sono le cutscene Che raccontano Quello che avverrà Dopo Accogliamoli con un caloroso applauso Grazie Aspetto Allora scusate un attimo Perché se qualcuno Ha un elenco telefonico A dimostrazione Della mia Totale assenza Ho dimenticato Raffaele Ammendola Attenzione Il nostro terzino Niseno D'adozione pure lui Raffaele Scusate Prego Dalla regia Mi dicono sempre Qualche secondo Dopo E allora Grazie di Apason Ascoltiamo la loro esibizione Raffaele Ammendola 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 I will try to fix you Not up above and down below When you don't want to let it go But if you never try, you'll never know Just watch your own Our lives will guide you And in night your bones I will try to fix you Do-la-la, do-la-la, do-la-la Do-la-la, do-la-la This dream down in your face When you lose something you can always face This dream down in your face I will try this dream down in your face I promise you I, oh Lord, promise me thanks This dream down in your face And I will try this dream down in your face I will try this dream down in your face And in my, oh Lord, I will try to fix you Bravissimi, straordinari Grazie ai diapason che c'è la sorpresa In dato vi ringrazio Grazie per la vostra disponibilità E grazie per la vostra arte Questi li spostiamo a volo Perché la sorpresa da cosa è rappresentata? Un video saluti che è arrivato alla fine Da parte di uno di quello che forse Probabilmente allo stato attuale È il massimo esponente del calcio ministero Sotto il profilo attivo Ernesto Torregrossa Che vuole salutare il capitano Davide La Paglia Nel frattempo ne approfitto per ringraziare tutti Per ringraziare Ottavio Bruno Per ringraziare tutte le persone Che hanno gremito a questo straordinario sito Ovviamente il service Angelo Rizza, Totoventi Tutti, grazie, grazie Perché dopo il messaggio di Ernesto Questa serata si concluderà Ma mai il nostro affetto Il nostro amore La nostra vicinanza Per il nostro capitano Grazie a tutti Ciao, sono Ernesto Torregrossa E volevo salutare il mister Davide La Paglia E fagli un grosso in bocca al Lugo Per il suo nuovo libro Volevo dirti che ti ringrazio Per quello che sei stato Da allenatore per me Anche se solo per poche partite La compagna di squadra per mio papà Perché mi ricordo quando giocavate insieme O vi siete scontrati in qualche derby Sangataltese Nissa E volevo ringraziarti anche per essere un esempio Per me, per la mia famiglia Sia tu che Daniela E le bambine, fra virgolette Ormai sono delle donne Per come avete affrontato tutto E per la forza che avete E l'esempio che ci date Voglio mandarvi un grande abbraccio Vi voglio bene Grazie Grazie